Quattro passi per andare incontro al prossimo sinodo dedicato ai giovani. La pastorale giovanile della diocesi di Macerata ha organizzato quattro incontri con altrettanti ospiti dedicati al mondo giovanile. Abbiamo intervistato Don Giordano Goccini, il sacerdote emiliano che ha tenuto il primo incontro all'aula sinodale. I giovani abitano questo tempo in un modo tutto loro, tutto particolare, nel senso che abitano questo tempo perché non ne conoscono altri, quindi prendono la forma, si mettono su casa dentro a questo tempo di precarietà, sono diventati liquidi come i liquidi della società. Nello stesso tempo però si sentono un po' fuori casa in questo spazio perché tutto ciò che noi gli abbiamo iniettato come sogni, desideri possibili, sono diventati sempre più incerti, sempre più difficili. Trovare un lavoro, mettere su casa, avere sicurezza economica, vedersi riconosciuto per quello che vali, per quello che fai, è diventato un sogno quasi irraggiungibile. Per questo sognano altre case e vanno ad abitare altri spazi. Qual è la prospettiva che si apre andando oltre il già visto? Quindi dando una nuova freschezza al Vangelo. Allora il bello dei giovani è che possono spingersi oltre, possono cercare l'isola non trovata, quella che ancora nelle carte geografiche non c'è segnata, possono slanciarsi un po' più in là. E anche per questo il Papa inizia il suo messaggio ai giovani citando l'invito di Dio ad Abramo, vattene, ai giovani è possibile fare questa cosa un po' dura, un po' graffiante, un po' difficile, ma profondamente generativa. Vattene dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Ecco, forse quello che manca di più a noi adulti è dire ai giovani vattene. Forse vorremmo, insistiamo troppo sul Vieni, mentre invece dobbiamo chiedere ai giovani di essere degli esploratori, di essere capaci di immaginare un futuro nuovo, di buttarsi in sentieri ancora inesplorati, di trovare quello che ancora le carte geografiche non hanno segnato. Il prossimo appuntamento è per venerdì 1 dicembre, quando ad incontrare i giovani della diocesi sarà Don Andrea Franceschini, direttore del Centro Discernimento Vocazionale di Senigallia.